Cleaning Management è una società intermediaria di prodotti per la pulizia professionale. Ne parliamo con l'amministratore unico e titolare Stefano Giorgi in 5 minuti. Buongiorno Alessandro innanzitutto e grazie della possibilità di essere qui. Cleaning Management nasce da un'idea che ho avuto quando avevo 18 anni, ero in viaggio di piacere a Hong Kong e un mio amico di nazionalità cinese mi ha detto andiamo a vedere la fiera di Guangzhou in Cina, la fiera di Canton. Sono andato con lo stesso spirito con cui si andava a vedere la SMAO quando eravamo ragazzi, sono andato a vedere questa fiera e mi sono reso conto che c'erano tantissimi prodotti monouso di consumo, medical equipment, guanti, tutto quello che veniva utilizzato di monouso di consumo e di attrezzature nelle aziende dei miei genitori. I miei genitori, mio padre Giancarlo Giorgi ha sviluppato la Serist, servizi ristorazione. Facendola diventare un colosso della ristorazione collettiva in Italia. Per questo motivo ho deciso di andare a fornire le società di ristorazione collettiva, tutto quello che era il settore Oreca, quindi hotel, ristoranti e catering. Ed è per questo che nasce Cleaning Management, per la mia volontà di poter fornire il mio papà con i prodotti che regolarmente acquistava prima in Europa, soprattutto in Italia. Con il mio subentro e con la mia volontà di fare i viaggi in Cina e recuperare prodotti monouso di consumo per le sue aziende, è nata proprio la Cleaning e anche le forniture estere nell'azienda di mio padre. Ovviamente con certificazioni, prove di cessione, tutto quello che serviva per una grande azienda italiana, ma ovviamente a prezzi leggermente diversi rispetto a quello che era la produzione italiana. Quindi Cleaning Management è nata sin da subito con un fatturato molto grande dovuto alle ristorazioni collettive che ci hanno fatto da clienti sin dall'inizio e anno dopo anno si è sviluppata anche verso clienti molto più piccoli come panifici, macellerie, bar, ristoranti, perché chiaramente i prodotti erano gli stessi, avevo il magazzino con moltissimi prodotti, quindi è stato facile creare una rete commerciale all'inizio in Lombardia e poi in tutta Italia che fornisse tutto il settore Oreca con i prodotti che già avevo in magazzino per queste grandi aziende di ristorazione. Quali sono i prodotti e i servizi che offrite alla vostra clientela? Prevalentemente sono detergenti, disinfettanti, prodotti per la pulizia del settore Oreca, quindi dai mop ai manici alle scope, le spugne e già da prima del Covid vendavamo i prodotti di antinfortunistica per la ristorazione, quindi mascherine, guanti, cuffie, camici, tutto quello che serviva già prima per la protezione. Chiaro che durante il periodo del Covid ci siamo specializzati ancora di più nei prodotti medici e farmaceutici anche, infatti abbiamo iniziato a fornire tamponi rapidi, tamponi sierologici, rinofaringei e anche test Covid verso sia le aziende di ristorazione o comunque le società sportive che già servivamo fornendogli questi prodotti, ma soprattutto anche facendo un canale nuovo come le farmacie che non avevamo mai affrontato prima del Covid, ma avendo appunto questi prodotti utilissimi anche per le farmacie, per il loro utilizzo interno, è stato semplice aprire un nuovo settore medicale dell'azienda. Ho visto dal vostro sito che vi occupate anche di formazione, perché è necessario formare il personale all'utilizzo dei vostri prodotti? Come servizi noi effettuiamo soprattutto la formazione sul campo dei nostri prodotti e degli operatori, quindi andiamo a spiegare come si utilizzano i nostri prodotti, come gli operatori devono utilizzarli e anche i tempi di utilizzo. Come ulteriore servizio diamo l'analisi delle acque, quindi l'analisi di tutto quello che è il mondo acqua dei nostri clienti per lavastoviglie, per la pulizia a mano dei piatti e delle stoviglie e soprattutto diamo anche dosatori per le lavastoviglie, sia piccole lavabicchieri che a nastro, incomodato d'uso gratuito, con i nostri tecnici e forniamo assistenza sia sui dosatori che sulle macchine lavastoviglie, in modo che i nostri clienti possano rivolgersi solo a noi per quanto riguarda il mondo del pulito, del lavaggio e della disinfezione nel mondo giroica. Quando si pensa ai prodotti per la pulizia ci si preoccupa per l'impatto ambientale. Voi come vi ponete nei confronti dell'ecosostenibilità? Abbiamo adottato in azienda una linea di detergenti Ecolabel prodotta con ingredienti naturali e di facile smaltimento per l'ambiente e cerchiamo soprattutto di spingere questa linea Ecolabel verso i nostri clienti, bar, ristoranti, hotel, cercando di spingerli verso una nuova era di prodotti chimici che possono essere sostenuti e sostenibili dall'ambiente, visto che sempre di più ne facciamo utilizzo, soprattutto in questo periodo di Covid. Quindi stiamo spingendo i nostri clienti ad adottare linee Ecolabel per quanto riguarda la detergenza. Invece per quanto riguarda i prodotti monouso, anche sui prodotti monouso stiamo andando verso questa linea ecologica. Se qualcuno volesse mettersi in contatto con voi, quali riferimenti ci lasci? Sicuramente la mail aziendale che è info-cleaningmanagement.it ma per qualsiasi domanda diretta anche o informazione possono contattarmi direttamente alla mail stefano.giorgi-cleaningmanagement.it Oltre alle mail per contatti o informazioni di qualsiasi tipo, possono anche andare a visitare il nostro sito internet www.cleaningmanagement.it dove potrete trovare tutti i nostri prodotti, informazioni sull'azienda, schede tecniche di sicurezza da scaricare per i prodotti prima di andarli a utilizzare, così possiamo vedere ingredienti, metodi di utilizzo e tutto quello che è la sostenibilità del prodotto stesso e anche un sito di e-commerce, quindi è possibile acquistare direttamente dal sito www.cleaningmanagement.it Stefano, io ti ringrazio, ti auguro una buona giornata e un buon lavoro. Ti ringrazio a te Alessandro, buona giornata.